Ma sicuramente è un'esperienza bellissima che ci ha fatto piacere, quindi saremo grati al City Group per averci dato questa opportunità. Sicuramente abbiamo lavorato molto bene durante la settimana e come ho detto spesso bisogna riportare poi quello che abbiamo fatto questa settimana poi in campo. Sicuramente era un amichevole che serviva per chiudere una settimana importante allenamento. Siamo allenati duramente tutta la settimana con dei doppi quindi era importante scendere in campo con l'atteggiamento giusto perché gli amichevoli comunque hanno sempre l'insidia e siamo scesi bene, abbiamo fatto una buona amichevole quindi siamo contenti. Penso tante cose perché comunque per ogni ragazzo arrivare qua e giocare in questi campi è incredibile, quindi è un sogno penso di tutti i ragazzini da piccoli. Abbiamo avuto l'opportunità di venire qua e abbiamo sfruttato ogni minima cosa che hanno dato a disposizione per lavorare quindi ci porteremo dentro un sogno che tornando a Palermo bisogna lavorare duramente per poi riuscire un giorno a arrivare tutti insieme.